Inizio di eliminare il permesso di abbattimento, non che i numeri fossero elevatissimi di queste possibilità di abbattimento, ma il principio che evidentemente non funziona, nel senso che eventuali problemi di convivenza tra umani e animali non possono essere risolti esclusivamente attraverso la tecnica dell'abbattimento. A noi pare una tecnica sbagliata e in più il lupo è essenziale in molti luoghi, soprattutto nel centro-sud, per mantenere un equilibrio dell'ecosistema anche per esempio nel confronto con un'altra specie molto particolare che provoca parecchi danni all'agricoltura che sono i cinghiali. Quindi eliminare i lupi è un'operazione che incide sull'equilibrio dell'habitat in modo, secondo me, sbagliato.